Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Allora le faccio un esempio, appunto per rispiegare ancora, ci sono dei casi rari in cui alcuni atti parlamentari devono avere uno dei membri dell'Assemblea, perché se no il governo ieri pure ha vinto 195 voti, era primo in classifica, bisogna averne 201, sono casi rari che il regolamento indica o addirittura la Costituzione. Perché sono cose molto importanti, molto serie. E' vicino e c'erano molti turisti, quindi con le macchine si perdeteva, al Senato a votare. E chi non camminava veloce vuole un bello scappellotto. Io non è che sono poi semplicemente andati, prendiamo e andiamo. C'era anche ovviamente la capogruppo Ranzulli che era sul pezzo e siamo andati lì. E al Senato eramo presenti in 16 su 18 del nostro gruppo, un assente era Silvio Berlusconi e un altro, un senatore che stava al Consiglio d'Europa, quello che spiegava Rampelli. Le missioni cosa vuol dire? Che si riunisce all'Assemblea della Nato, si riunisce al Consiglio d'Europa, ci sono degli eventi che comportano la presenza dei parlamentari, uno si mette in missione non se va in gita sul lago di Garda, se va a fare una cosa connessa alla propria funzione. Tutto qua. Io oggi per esempio, guardi che si fatica di più a fare il politico sul territorio che non nel Parlamento. Oggi a quest'ora si è arrestato a Sondrio, mi scuso con gli elettori di Sondrio, dove si vota Sondrio e Brescia. Ho dovuto ieri sera disdire l'impegno a Sondrio perché oggi si rivota al Senato alle 4 e ci vuole il cuore. Ma mi stanco di meno andare al Senato che andare a fare il mio dovere in giro. Mi ero illuta che aveva disdetto l'impegno per me, Gasparri. Allora, vedo collegata Elsa Fornero. Allora, vedo collegata.